Un terribile incidente si è consumato nel pomeriggio di domenica a Mazzanego, comune di Tiguglio, nella città metropolitana di Genova. Una giovane donna di 31 anni, Elisa Martina Enrile, ha perso la vita. La giovane nel primo pomeriggio di ieri stava camminando insieme ad un amico, un 44enne di Chiavari, in un tratto di sentiero nella zona del Passo del Bocco, sul Monte Zatta, quando è scivolata, cadendo in un burrone. L'uomo che era con lei ha tentato di salvarla, ma non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi chiamati dall'amico della 31enne, anche lui rimasto ferito nel tentativo di aiutarla e in forte stato di shock. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!